I fratelli dello spazio Chi era David Sanders? Commento Era professore di psicologia all'Università del Colorado e membro della commissione di studio sugli UFO finanziata dall'USAF costituita negli Stati Uniti nel 1966. Sanders, nella divulgazione del promemoria segreto di Robert Lowe amministratore della commissione ebbe un ruolo di primo piano perché sostenne la necessità di proseguire ad ogni costo le ricerche sugli UFO ricerche che continuano anche oggi grazie a medium che ricevono comunicazioni da alcune civiltà dei fratelli dello spazio. Chi scrive ha conosciuto in ordine cronologico le medium Wanda, Adriana e Antea che hanno ricevuto e ricevono rispettivamente le comunicazioni di Enu, di Ardek e di Odea Rehan.